Buongiorno ragazze, buongiorno Serena Dopo il video dell'orrenante che ho appena girato sono qui con Serena ovviamente pronta a partire a farvi vedere i prodotti per le nostre unghiette che abbiamo ricevuto dalla Laila Serena va bene se facciamo che io li faccio vedere nella bottiglietta e tu li swatchi sulle tip? Certo Cristina, ho già tutte le tip pronte, purtroppo devo permettervi che tutta la prima serie di smalti io non li ho più alcuni ne ho, altri li ho dati via tuttavia avevo fatto un video di cui al massimo vi metto il link da qualche parte dove vi mostravo appunto lo swatch su tip di ogni singolo smalto cosa ne pensi? ragazzi questi smalti hanno dei colori molto particolari se vi posso consigliare prendete i colori molto scuri e opachi senza riflessi al loro interno perché innanzitutto sono più pigmentati e asciugano prima proprio perché necessitano di meno passate di per sé mi concordo assolutamente con Cristina in quanto i tempi di asciugatura sono comunque piuttosto alti e se mettete sopra un accelerante di quelli che permettono una più rapida asciugatura l'effetto non è ottimale e soprattutto ciò che io critico a questi smalti i colori tuttavia sono indiscutibilmente molto belli anche se magari si perdono poi i loro riflessi secondo me è un po' la resistenza infatti devono essere assolutamente associati a un buon top coat perché altrimenti si sbeccano subito sulle punte i amiche effect sono disponibili in 15 tonalità a 7,60 euro circa li trovo li trovo un po' particolari perché gli smalti nella confezione nella bottiglietta sono secondo me favolosi questo è un viola nero con dei bellissimi riflessi è il numero 15 per esempio e io l'ho adorato appena l'ho visto nella confezione sulle unghie questi bellissimi riflessi non ci sono non c'è verso applicandone un mini strato applicandone 2 milioni di litri niente una carrellata così così me li faccio vedere tutti ho 23 ed è un bellissimo fucco diciamo che è uno di quei colori di cui appunto nella bottiglietta te ne innamori è il numero 23 vedete e in realtà va un po' a cadermi nella nella sua stesura resta un bellissimo colore che sembra addirittura tendere quasi a rosso proprio perché ha dei riflessi al suo interno stupendi il problema è proprio come diceva Cristina che questi riflessi non si hanno poi effettivamente sulle unghie numero 22 è questo bellissimo viola viola che questo qui non ha riflessi è pastello numero 22 questo bellissimo viola melanzana questo è anche uno dei miei preferiti e l'ho tenuto su questa settimana è questo verde bosco stupendo ha la stessa resa che vedete nella confezione è veramente bellissimo molto riflessato con questi micro glitterini verdi è veramente bello 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 questo qui insieme al viola è uno dei miei preferiti è del numero 10 spero che sia un 9 e non un 60 questo qui questo rosa questo è molto bello secondo me molto adatto per l'estate in realtà per le persone che si abbronzano quindi magari non per i cadaveri che a me è piaciuto tantissimo rosa pighi era il numero 9 ve l'ho detto questo qui è veramente molto molto bello chiaro semplice però un bel rosa ok questo è il 21 come dicevi tu è un bellissimo rosa porcellino molto molto intenso calcolate che questa è una sola passata allora questo qui è l'11 questo qui è un colore che a me è piaciuto tantissimo nella boccetta sempre con dei riflessi rosa dorati veramente ecco sono così bellissimi bellissimi sulle unghie questi riflessi qua sono invisibili stessa cosa dicasi per il 12 il 12 è un move top forse i video risultano addirittura uguali sono proprio molto molto simili forse vale per questo qui che è un colore anche questo secondo me stupendo con dei riflessi rosa dorati lilla bellissimi è il 24 ed è questo azzurro numero 24 che poi è anche quello che io indosso ora ed è un turchese un celestino anche qui molto baby bellissimo perché ha tutta una serie di riflessi nella bottiglietta che tendono a rosa è davvero pochissimo pigmentato infatti questo è l'unico di cui ho dovuto mettere tre passate per raggiungere questa coprenza due colori un bellissimo blu che è il numero 13 che è un colore che secondo me quest'anno sarà veramente un must have 5 è un un teal 25 direi un verde ottaneo un colore molto bello molto particolare davvero di moda quest'anno i colori sono molto belli quelli chiari hanno una resa un po' peggiore secondo me perché sono molto belli nelle confezioni ma sulle dita perdono i riflessi ed è un peccato perché sono stupendi coprenza diciamo che due passate sono il minimo necessario per avere una coprenza decente sulle mie unghie impiegano ore ad asciugare io non ho mai la pazienza per aspettare peraltro quindi è sempre un disastro ci impiegano veramente veramente tanto ecco durata ma un po' deluso perché sulle mie unghie non sono mai durati più di due giorni io lo so che tu li adori Serena e li adoro anch'io i graffiti top coat facci vedere i tuoi colori dai questi sono tra i miei prodotti preferiti della Laila sono davvero delle novità incredibili che io ultimamente moltissimi brand moltissime case cosmetiche stanno facendo uscire questo tipo di prodotto ovviamente declinato sul proprio stile per la propria filosofia a livello di make up sto parlando stiamo appunto parlando dei graffiti top coat che sono dei prodotti disponibili in sei tonalità adesso aumentati penso a 12 credo ci sono i nuovi colori per a circa 10 euro l'uno ecco io ne posseggo 5 eccoli qua di questi 5 me ne sono stati inviati due ossia esattamente gli stessi quindi il nero e il rosso e io ho poi acquistato il bianco il giallo e il rosa dei colori originali manca solo il blu questa prima linea base è la linea con i colori opachi che hanno un effetto matte adesso poi ne sono usciti sei che hanno comunque un effetto un po' metallizzato ma restando sempre opachi poi come finish che dire questi sono dei semplicissimi smalti da usare come top coat che nel momento in cui entrano in contatto con uno smalto è come se fossero repellenti a questo e quindi si ritirano allora assolutamente promosso quello nero se ne dovete acquistare uno vi consiglio il nero perché intenso è molto forte mentre questo resta un po' sbiadito tuttavia assume proprio come il rosso una totale pigmentazione molto più aumentata e quasi viene trasformato dall'SOS color and shine da soli invece sono un po' sbiaditi e li come colore assolutamente promosso il giallo per quanto comunque non è così intenso invece un colore che assolutamente non mi aspettavo fosse così ma è spettacolare è proprio il rosa delle soluzioni eccezionali per chi è sempre di ferretta ma vuole avere comunque delle mani curate magari un po' particolari o anche per chi è inesperto o non ha voglia di applicarsi al mondo nell'arte benissimo sono molto invidiosa del tè giallo anche se il giallo è un colore che io non uso tantissimo e infatti voglio andare a prendere il bianco che secondo me è bellissimo sono pienamente d'accordo con te io ho ricevuto nero e rosso e questo è un prodotto davvero rivoluzionario io sono rimasta veramente sconcertata bellissimo la cosa che mi ha stupito è il finish che alla fine rimane opaco mentre per il nero secondo me va benissimo per il rosso questo finish opaco se sotto avete messo un colore un po' più scuretto lo fa un po' perdere cosa che si può brillantemente risolvere come ho fatto io del resto mettendo questo prodotto qua che è lo smalto raviva colore SOS color and shine sempre della Laila micidiale lo smalto questo qui era opaco un po' cupo un po' buio io l'avevo messo sul teal questo qua quindi rendeva anche poco ho messo quello sopra bellissimo 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 un top coat per tutte queste categorie di smalti e lo smalto raviva colore SOS color and shine questa è la sua eccolo qua semplicemente diciamo questo smalto viene venduto come un top coat da dare il secondo il terzo giorno in cui sia lo smalto quindi magari in cui inizia a perdere un po' della sua brillantezza e così via applicate questo e l'effetto è straordinario in realtà è bellissimo anche subito applicato perché davvero dà una luce favolosa lo smalto lo rende proprio lucidissimo addirittura io l'ho trovato migliore rispetto al brilliant do questo è color in shine a 10 ml di prodotto per circa 10 euro perché riguarda l'ultimo prodotto che ho il brilliant duo nail polish protector effetto vetro che se non ricordo male nella descrizione diceva sarete voi eccolo qua infatti sarete voi a decidere quando togliere lo smalto bene secondo me non è niente di diverso rispetto a un qualsiasi altro top coat tu sei riuscita a provarlo un po' di più cosa te ne è parso il brilliant 2 sarebbe uno smalto protettore a effetto vetro questo prodotto è estremamente caro sono 10 ml e diciamo che ciò che si propone di fare è quello di permettere una durata quasi infinita direi al al vostro smalto il problema è che non innanzitutto non è così ha una consistenza molto particolare non vi serve troppo prodotto più densa non lo so ha una consistenza particolare ma soprattutto quello che io non riesco a tollerare di questo prodotto è l'odore a livello pratico non ha una durata come viene promessa e tra i due preferisco molto di più l'SOS perché dà molta più luce molta più l'uniformità all'unchia va anche a levigare a questo effetto lisciante e soprattutto resiste a lungo e asciuga in frettissima invece lui ha notato che è molto lungo ad asciugare ha una densità particolare per cui necessita di poco prodotto però ha tutta una serie di inconvenienti che non mi piacciono brilliant 2 costa circa 16 euro secondo me è davvero troppo ragazzi con questo è tutto io vi saluto un bacione a tutti voi un bacione a Serena ciao grazie spero che questo video vi sia stato utile un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video con Cristina grazie a tutti